Ciao a tutti ragazzi, scusateci per l'inconveniente tecnico che se collegato ci avrà visto in video ma non funzionava l'audio quindi che dire, nella conferenza l'abbiamo comunque fatta perché avevamo dei giornalisti presenti e vi faccio questo piccolo video per darvi la notizia più importante la Vintage News Festival continuerà ad esistere, sarà però a scadenza biennale quindi il prossimo appuntamento sarà nel 2020, sempre l'ultimo weekend di giugno volevo però dirvi questa piccola cosa, chi l'anno scorso ha partecipato al festival e soprattutto c'era domenica sera si ricorderà le parole del sindaco, quelle di più che l'amore finale in cui disse Vintage News Festival lo volete, Vintage News Festival ci sarà per me quelle pur essendo state le parole importanti non sono state le più importanti le più importanti che lui disse sono state legate alla cultura lui disse esattamente questo qui a Inzagos si è fatta cultura per sei giorni questa cultura non era inzaghese ma lo è diventata per diritto questa cosa è una cosa importante perché? perché la continuazione del Vintage News Festival dal mio punto di vista e dalla maggior parte dei punti di vista anche dell'associazione culturale Vintage News non poteva che continuare a Inzagos perché si è plasmata in questo territorio detto ciò il fatto di aver avuto un tavolo di lavoro veramente interessante sono state 6-7 riunioni veramente intense in cui si è giocato a carte scoperte tra la possibilità facendo bienalmente al comune di raddoppiare il proprio contributo c'è la possibilità praticamente che la Proloco inizierà ad aiutarci con le parti burocratiche e sicuramente il comune prenderà in carico la parte di sicurezza l'ecomusione della Martesana ci darà spazio per poter collaborare anche con altri comuni che in questi anni ci hanno richiesto di fare qualcosa anche da loro e quindi l'anno di spare che noi abbiamo lo concentreremo per fare degli appuntamenti chiamati appunto Waiting for Vintage News Festival la parte legata agli sponsor abbiamo già avuto conferma da JB Connett che è la mia azienda quindi mi vede chiaramente come in prima linea ma abbiamo già avuto conferma anche da Coges che continuerà a essere il nostro main sponsor BCC è diventata BCC Milano ma spero che continui ad essere dei nostri e come media partner spero che continui ad esserci anche la gazzetta dell'Ada Martesana detto ciò continueremo un processo di ricerca sponsor e main sponsor sul territorio e non e verrà lanciata una campagna di crowdfunding che considererà a tutti di partecipare e alcune altre notizie carine ve le diremo il 23 di febbraio alla Vintage News da Jumping Night che avremo al Pit Lane in cui già il sindaco e il presidente della Proloco mi hanno detto che parteciperanno faremo un piccolo video in cui vi diremo delle cose importanti di cui una è già iniziata a segnarvi anche quest'altra data che è il 16 di giugno domenica 16 giugno è qualcosa che si terrà in piazza maggiore ad Inzago e che dire grazie a tutti e ci vediamo presto bacione